Io non ho avuto molte esitazioni ad accettare, mi è sembrato doveroso accettare l'offerta di Nicola Zingaretti perché mi sembrava che fosse giusto dare un piccolo contributo di esperienza, di conoscenza nel senso del segno dell'apertura del Partito Democratico alla società civile alla rinascita del Partito Democratico e con esso alla difesa dei valori democratici della Costituzione di cui c'è sempre molto bisogno in Italia e in Europa. Io non condivido, non ho mai condiviso la scelta dei miei colleghi magistrati di lasciare, di alcuni di loro di lasciare la magistratura per passare in politica e poi eventualmente per rientrare in magistratura all'esito dell'esperienza politica. Questa è una cosa che lede all'immagine, il noce all'immagine della magistratura dell'immagine di indipendenza e di autonomia della magistratura. Credo che una volta che sia legittimo passare dalla magistratura alla politica non condivido la scelta di rientrare in magistratura ecco quindi una volta che sei passato in politica poi non puoi più rientrare secondo me a fare in magistrato puoi fare naturalmente tante altre cose, puoi rientrare nella pubblica amministrazione ma non con il ruolo di magistrato. Perché hanno un valore diverso queste elezioni europee? Beh sì, queste sono le elezioni un po' spartiacque perché abbiamo di fronte una coalizione di centrodestra sia in Italia che in Europa ispirata ai valori del nazionalismo, se valori possiamo chiamarli, del nazionalismo, del sovranismo, del populismo che a noi non piacciono, che noi combattiamo e combatteremo finalmente nel nome della legge e della Costituzione.